Allora, come iniziamo? E se iniziassimo con c'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco, ecco, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre? Chiudiamo il libro, non se ne parla! Facciamo così! No, 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 no! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.